Ciao ragazzi, io sono Red e oggi parliamo della maschera di Ghost e del fatto che potete acquistarla già preordinandola dal Monopoly Software Shop. Ancora prima di parlare di quello però, sigla! Beh, se sapiamo non lì fa, se è finita. Questa che vedete qui è una replica della maschera di Ghost. Per chi non sapesse cos'è, uscite dalla tana nel deserto che vi siete fatti e giocate a un Call of Duty qualsiasi. Questa è la maschera di Ghost, vi appare le immagini del personaggio originale qui e vi dico che sono disponibili per l'acquisto sul nostro sito. È stata richiesta anche dalla tipa che fa Rose, 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 comunque si pronunci. Sono state progettate per poter essere utilizzate giocando a soft air, sono veramente molto fighe e io ve le consiglio. Sono fatte dalla stessa persona che ci ha fatto i gadget di Warzone, quindi la qualità è assicurata e le usa anche questo signorino qua che fa il look-alike in Italia alle fiere di Ghost. Veramente molto fica, questa ripeto la versione beta, però sostanzialmente i materiali sono quelli. La parte solida della maschera è in resina fatta a mano, quindi abbiamo un omino che si è messo lì a curarla nei dettagli, fai da te, roba italiana, toc! E sotto invece abbiamo il passamontagna tipico con il teschio di Ghost, però è particolare, non è uguale a quelli che ci avete visto usare miliardi di volte in questo programma. Quella definitiva avrà il cuciturone sulla parte alta della fronte, mi metti a fuoco la faccia, sono più contento, grazie mille. È una roba veramente molto ficcante, vi consiglio di approfittarne. Trovate il link in descrizione, se volete acquistarle, saperne di più, le trovate, ripeto, il link in descrizione, andatelo a vedere perché sono veramente una gran ficata. Se avete domande ci sono i commenti, se volete iscrivervi, iscrivervi sì. Se volete fare una cosa interessante andate anche a controllare il mio Instagram, l'Instagram del negozio, pubblichiamo un sacco di foto, chissà che non ci scappi una collaborazione con qualcuno. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video e stay angry! Ciao!